Sono 17 le persone positive al Covid-19 a Bagheria, di cui due guariti, uno dei quali è il bambino di 18 mesi che era ricoverato da qualche giorno all'ospedale dei bambini di Palermo. A comunicarlo nell'aggiornamento di ieri alla cittadinanza il sindaco Filippo Tripoli, il quale ha fatto presente che i contagiati appartengono a cinque focolai diversi. Purtroppo una persona versa in gravi condizioni. Il sindaco ha pure detto che l'ASP, fino ad ora, ha effettuato 126 tamponi a coloro che hanno terminato la quarantena in casa e di questi 125 sono risultati negativi e uno solo positivo. Intanto proseguono i controlli sul territorio per evitare i contagi. Il sindaco ha fatto presente che sono state controllate ben mille autocertificazioni da parte degli uomini della Polizia Municipale che insieme con le forze dell'Ordine e la Guardia Forestale sono impegnate sul territorio. Le autocertificazioni prodotte dalle persone fermate, afferma il sindaco, le stiamo controllando tutte e nel caso di comunicazioni false gli autori saranno perseguiti penalmente. Lo stesso Tripoli ha detto alla cittadinanza che grazie alla collaborazione di alcuni cittadini che le stanno confezionando, il Comune sta distribuendo centinaia di mascherine con priorità alle persone impegnate nelle varie attività che sono coloro che hanno maggiore contatto con i cittadini. Ho ricevuto cento mascherine del modello N95 donate dai parlamentari nazionali Caterina Licatini e Vittoria Casa e dal parlamentare regionale Salvo Siragusa del Movimento 5 Stelle. Le mascherine su espresse indicazioni dei deputati saranno destinate al personale sanitario. Altre cento mascherine sono state donate dalla farmacia Timoneri e ne aspettiamo altre mille dalla Cina che abbiamo chiesto qualche giorno fa.